Ciao, il mio nome è Locke. Scrivetevi per averit the white spider? Allora i miei ragazzi di Murkywater possono pagare una visita personal. Per sicuramente. Ragazzi, ora io dico. Update 125. Ma era proprio necessario? La maschera di Trump e la maschera di Mega Trump era veramente così necessario? Durante il venerdì nero? Ok.